Devo trovare quell'antipo e risolvere questa crisi. Deve esserci un modo per contattare l'E8 e convincerli ad abbandonare questa crociata ben di catipato. Non possono mandare all'aria quanto di buono hanno fatto in passato solo per distruggere Norman. Va bene, Norman sta andando a prendere l'antidoto. Avviso Yuri. Spero siano buone notizie. E come? Oscorp ha creato un antipo. Esiste una cura? Grazie a Dio. Quando possiamo distribuirla? Cercherò di scoprirlo. È tra la Decima e Cathedral. Aspetta, mi dicono che in quell'area è precipitato un elicottero. Oh no, quello potrebbe essere Norman. Ti manderei degli agenti, se soltanto ne avessi. Tranquilla, ci penso io. Risolveremo tutto. Electro tenta di provocare un blackout. Voltur semina morte dall'alto. E Spider-Man li incita a combattere nel cuore della città, come un branco di letali ragazzini che scatenano caos e distruzione con i loro capricci. Spesso mi sento chiedere, perché i superpoteri finiscono sempre in mano ai criminali? Perché non ha qualcuno come te, Jonah? Beh, anch'io ho pensato di ricorrere alla scienza per ottenere poteri sovrumani e proteggervi di persona. Ma dopo lunghe riflessioni, ho deciso di evitare. Perché il potere corrompe. Io sono un uomo del popolo. Un autentico new yorkese. E voglio contare solo sulla forza del mio lavoro. Quindi vi aiuterò con le mie trasmissioni, il mio impero editoriale e le mie ricchezze. Non dovete ringraziarmi. È questo che fa un vero uomo del popolo. Sguardo di terra, qui comando. Aggiornamento dalla caserma dei pompieri. Punto di controllo. Autorizzato a sparare a vista. Autorizzato a sparare a vista. Autorizzato a sparare a vista. Devo eliminare questi demoni prima di seguire lì nel laboratorio. Eliminiamo i cecchini. Devo eliminare questi demoni prima di seguire lì nel laboratorio. Eliminiamo i cecchini. La? L'frambo di seguire lì nel corso che tirano. Un'altra cosa che vediamo. Un'altra cosa che conosco. Devo liberarmi di questi demoni in fretta prima che lì trovi l'antidoto. Potrei imbrigliare la torre. Vieni la torre. Grazie. Ok, mi hanno perso. I demoni hanno eliminato gli agenti Sable. Lì è sul piede di guerra. I demoni hanno perso. Non i demoni hanno perso. Non mi hanno perso. Non so, non so, non lo so. Non so, non so. Ma sì, non so. Dove è un'escritto. Non so, non so. Sì 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 Grazie a tutti. 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 Perché sei... così pesante. Hai... tu... Allora... Grazie a tutti.